eccoci ritornati adesso è il momento di luca che già pronto in tondino con apple candy e ci farà vedere come prosegue il suo lavoro con questa cavalla allora intanto buongiorno a tutti grazie di essere qui oggi una giornata particolarmente speciale perché mi sto rendendo conto che in questa situazione particolare di questo evento che abbiamo creato in realtà io qui tantissimi miei istruttori forse quello che ha segnato di più la mia vita e ma permesso un'evoluzione maggiore una crescita è stato franco e poi a ruota tanti altri come antonio indirettamente con i miei allievi quelli che sopravvivevano ai suoi stage e poi silvano col quale abbiamo condiviso tutto questo percorso in cui io facevo tutti gli esperimenti lui si mette le mani nei capelli eccetera eccetera e poi giulia che ultimamente sta venendo spesso con me ci troviamo benissimo e tutti gli altri da cui io continuo a prendere a imparare e quindi sono molto lusingato e contento di essere qui con loro a compartire con voi la mia esperienza allora ritorniamo alla mia amica lei è una cavalla che gentilmente c'è stata offerta perché ha riscontrato il suo punto di vista che non era proprio compatibile col punto di vista del cavaliere e quindi era diventato una cavalla tra virgolette problematica semplicemente la pensava in un modo diverso e anzi è una cavalla che è al contrario di un cavallo problematico è un cavallo che ci dà delle opportunità ci dà delle opportunità per metterci in discussione quello che io credo fermamente e che non bisogna credere bisogna sperimentare ovviamente sfruttando quelle che sono le esperienze del passato per evolverci nella sperimentazione per cui se da un punto di vista scientifico esatto esatto fino a prova contraria e questo è un po la mia esperienza che sto facendo che i cavalli è quello che mi piacerebbe fare con voi oggi ho basato tanti anni in cui ho lavorato con la tecnica dato queste tecniche perdonate le espressioni etologiche ho fatto varie esperienze mi sono tra i due mondi no per cui ho letto non va bene vanno unite e poi ho incominciato a dire ok adesso dimenticati dell'una dimentica dell'altra e cerca di ascoltare qualcosa di veramente utile e intelligente che è la risposta del cavallo tutto quello che faccio soprattutto grazie a una frase di giulia che lei mi diceva involontaria è nato da una riflessione in cui chiacchierando con lei un giorno gli ho detto sì ma è facile lei mi ha detto sì è facile per te perché è logico e questo essere logico mi ha fatto veramente rivoluzionare ho detto ok ma è logico per chi fermi tutti logico per me è logico per i libri è logico per i colleghi è logico per gli esempi è logico per la storia o è logico per il cavallo in quel momento e quindi ho cominciato a chiedermi ok tutto quello che faccio ha una logica per il mio cavallo sì o no se sì lo faccio se no trovo un'altra strategia per renderlo logico adesso qui vi spaventerete tutti però per me tutto quello che abbiamo visto prima con silvano e giulia per un cavallo è assolutamente illogico nel senso un cavallo che nasce che ha la mamma che gli dice spostati la vai a mangiare il latte allontanati perché lì c'è un pericolo e non viene guidato dalle gambe dalle mani ed è un cavalliere che c'è sopra come possiamo arrivare a rendere meno stupido quello che facciamo quei cavalli perché però è assolutamente stupido questo è un po il desiderio che io in questi giorni in cui compartiamo questa mia esperienza con l'aiuto della mia maestra che la qui presente ha detto io non sono d'accordo con le cose che mi stanno dicendo da sopra ho la mia opinione il mio punto di vista per cui non vado dritta vado storta saltello scappo mi agito mi infastidisco mi nervosisco è arrivata qua e ci ha detto chiaramente non voglio rimanere in questo tondino non voglio ascoltarti sono preoccupata voglio difendermi da tutto quello che c'è intorno di te assolutamente non mi fido e io sto cercando di vedere tutte le fasi che secondo me e secondo lei possono essere logiche per arrivare a fare quello che è un po il mio sogno che il più possibile ok sarà lei a dircelo e io quindi rincomincio tutto da capo io non sono uno capace di non rifare i primi passi per me anche se un cavallo è addestratissimo ed è un cavallo da gran premio io da quando vanno nel box o sempre dei check perché penso che in qualunque fase dell'apprendimento ci possono essere dei punti che magari in quel giorno in quel momento particolare non sono chiari non sono assolutamente graditi o creano uno stress e se non li analizziamo ci troviamo poi ad aver fatto dei passi troppo lunghi e a precipitare io ve lo racconto tanto abbiamo un po di tempo io sono l'ultimo di 12 figli e sono stato cresciuto da una sorella veramente speciale i miei non avevano tempo ovviamente al dodicesimo questa mia sorella soffria di vertigini ma non c'è una roba proprio patologica nel senso che se si affacciava dalla finestra al primo piano perdeva i sensi sveniva vomitava aveva un sacco di problemi seri fidanzatissima a sposarsi tutto secondo i canoni di quelle che sono le costruzioni le credenze familiari si innamora di una guida alpina si innamora di una guida alpina e per amore incomincia ad andare in montagna e a un certo punto diventa la prima donna italiana aver scalato gli 8.000 io ero particolarmente affazionato lei dico ero perché purtroppo poi è morta in montagna e mi ricordo ancora che adolescente ragazzino 12 13 anni un giorno gli ho detto ma com'è possibile che tu fai un 8.000 che avevi paura di affacciarti dalla finestra e lei mi ha detto una frase che per me è il mio segreto quei cavalli mi ha detto luca per fare 8.000 metri basta fare un passo alla volta tu non pensarci agli 8.000 metri fai un passo alla volta ma e quel ma è stato geniale tutto quello che fai quando cammini e continuare a perdere equilibrio per cui quando sento tante parole no il cavallo deve essere il cavallo deve avvicinarsi a non potrà mai essere perché tutto quello che movimento è un continuo ritrovare equilibrio in una perdita di equilibrio dal mio punto di vista e lei mi ha detto ma prima di fare un passo stabilizzati bene su una gamba se sei solido porta avanti l'altra gamba e aspetta a muovere quella gamba dietro fino a quando questa gamba non è solida perché se questa gamba non è solida puoi sempre tornare qua se questa gamba è veramente solida poi a questo punto muove la gamba successiva e questa cosa per me nell'addestramento dei cavalli è fondamentale perché se io qui ho un problema devo poter tornare qui questo deve essere molto solido non vuol dire che ci devo mettere tanto tempo non vuol dire che fare poco è meglio di fare tanto vi ricordate l'esempio di prima con franco no che il cavallo sicuramente ha avuto una situazione emotiva molto evidente molto importante molto che magari per qualcuno che non è abituato dice ma perché sei andato a toccare quella situazione punto primo perché fino a quando non ci chiamiamo dio noi facciamo del nostro meglio e non sappiamo cosa andiamo a toccare punto secondo perché il problema non è non andare a toccare le situazioni emotive ovvio non lo faccio di proposito ma se il cavallo mi dimostra che ha un problema emotivo e io so di avere la centratura le tecniche le capacità di gestirlo io ho ascoltato un animale che aveva una difficoltà immensa l'ho aiutato a risolverla per cui non è una questione di fai troppo fai troppo poco devi usare un certo tipo di progressione un altro la questione di dire quanto ti amo quanto mi chiedi quanto sono in grado di darti per far sì che quello che era un problema diventi un'opportunità è sempre il modo in cui ci poniamo se vogliamo vedere quello come un problema possiamo parlarne tutta la vita e sicuramente saremo tutti d'accordo che un problema se vogliamo vederlo come un'opportunità basta guardare come ha risposto il cavallo perché dopo il picco di esplosione il cavallo è tornato a non solo essere un cavallo sereno non solo essere un cavallo connesso ma un cavallo più equilibrato più sicuro più confidente che aveva più fiducia in franco quindi alla fine inutile che facciamo troppa teoria troppa filosofia facciam parlare loro io rincomincio sempre tutto da capo oggi rincomincio ancora proprio dalle basi dall'inizio ritorno a verificare se per il cavallo è logico che nel momento in cui sente una pressione dietro si sposta in avanti ok e ovviamente perché questo succede spesso quando io lavoro dei cavalli ovviamente il cavallo come vedete ogni giorno si trasformano nel senso che non è il cavallo del primo giorno questo mi fa capire che ho avuto come diceva franco ho avuto culo nel senso bene vuol dire che questa informazione che gli ho dato in questi due giorni l'ha assimilata e ha fatto sì che questa informazione lo renda più tranquillo il primo giorno quando facevo questo mi vedeva come un predatore pazzo con due gambe che chissà che cosa gli avevano fatto nella vita oggi quando faccio questo mi vede in una situazione diversa questa cosa per me è fondamentale rifarla perché è vero che il cavallo mi risponde bene ma se mi dimostrasse qualunque tipo di segnale in cui non si sente per esempio a suo agio perché nel partire nell'avanzare si tende si rigidisce o è troppo lento non ascolta abbastanza le pressioni andare a fare degli step successivi mi porterebbe ad avere punto primo dei problemi e io cerco di evitare il più possibile punto secondo non aver ascoltato quando io sto parlando con voi e sono veramente felice cioè sono emozionato io vi ringrazio di essere qui mi fa sentire bene perché è bellissimo essere ascoltati e io penso che lei sia come me le piace essere ascoltata se io fossi qui a fare quello che sto facendo e voi poste lì a bere il caffè fumare la sigaretta che che era tra di voi a nessuno piacesse io mi sentirei non ascoltato mi sentirei meno mio agio quindi è fondamentale ascoltare tutti i punti di vista e siccome anche in questi giorni mi è stato chiesto tanto no stato detto ma tu non lavori sulla connessione allora anche lì dipende un po dei punti di vista nel senso che cos'è la connessione ognuno di noi la vede come la vede per me non esiste avere la connessione perché tu stai guardandomi io ho un border collie che mi insegna benissimo che per la connessione se lei adesso fosse libera ovunque e io schioccarsi la lingua ma così è adesso lei in casa non di più vedreste a razzo una cosa bianca e nera che va dai poni perché lei fa tutto quello che sta facendo ma vive connessa con me ora io adoro la libertà è bellissima ti ricordi franco quando con ciccio ma guai è un'emozione umana fantastica però tra virgolette scusatemi se lo dico un po io voglio essere anche un po provocatore in questa giornata è un po il circo voglio fare lo spettacolo faccia la libertà soli essere connessi ma io un carlo connesso di venire da me anzi spesso me da fastidio se un carlo viene da me perché dico se non stai bene lì e hai bisogno di me io non ti ho addestrato a essere confidente sicuro di te io ragazzi sarò molto provocatori o in questi giorni ma lo faccio perché voglio imparare da voi e perché voglio mettere carne sul fuoco se no qua continuiamo a fare quello che è sempre stato fatto continuiamo agli stessi risultati se vogliamo cercare di andare oltre dobbiamo spingere i tasti dolenti per me questo grado non è connesso è connessissimo questo cavallo qualunque cosa io gli chiedo sta attento a me la fa quindi vuol dire che è interessato poi è pronto a fare uno spettacolo no vuole venire da me no sarà in grado di farlo forse mi interessa per quello che voglio farvi vedere in questi giorni no perché torna a ripetere ci sono delle cose che per me sono delle basi solide e prima di mettere una relazione in cui io chiedo al cavallo viene da me e fa e brisca e briga io voglio dire cavallo se io parlo questo linguaggio per te è logico o non è logico se è logico perché mi rispondi mi rispondi subito sei a tuo agio e sei rilassato continuo a parlare con te se no trovo un linguaggio che funzioni quando ho un linguaggio che funziona di conseguenza c'ho la relazione se adesso io si sente sì se adesso io volessi insegnare a venire da me probabilmente potrei fare delle strategie perché venga da me in questo momento non mi interessa ma anche in modo un po provocatori io voglio far vedere delle cose diverse perché se facciamo tutti la stessa cosa qualche cosa compartiamo compartiamo siamo tutti bravi ci fate l'applauso e che bello tutti contenti non ci interessa qui nessuno di noi lavora per se stesso potete immaginarvi che cosa sta succedendo qua ci sono 20 professionisti affermati uomini che hanno veramente dedicato una carriera ai cavalli conosciuti nel mondo franco per me forse la persona in assoluto che ne capisce di più di cavalli che abbia mai conosciuto e visto in vita mia che vengono qua gratis perché nessuno di loro è pagato a dedicare il loro tempo le loro energie mettendosi in discussione davanti altri professionisti davanti un pubblico registrato con la gente da casa che potrebbe vedere sempre tutto quello che fanno a mettersi in gioco perché perché cosa perché tutti noi amiamo i cavalli è l'unico scopo per cui stiamo facendo questa cosa non abbiamo bisogno di clienti non abbiamo bisogno di fare stage siamo tutti affermati siamo tutti ricchi perché avevamo bisogno di poco denaro perché siamo molto ricchi perché viviamo con le cose meravigliose che sono gli animali e la natura per cui a noi di farvi applaudire le mani ci interessa veramente poco però ci sentiamo responsabili di dover aiutare i cavalli che ci hanno dato tantissimo nella vita e ci hanno veramente insegnato a crescere perché sono stati loro che ci hanno permesso di crescere sentire responsabile di ok vi diamo una mano anche noi perché sempre più gente possa capire che bisogna un po ogni tanto metterci in gioco metterci in discussione vedere le cose da altri punti di vista che non dico che siano migliori o peggiori ma se non un altro diversi perché solo attraverso le diversità i fallimenti gli insuccessi no come diceva franco no no come diceva silvano se franco mi chiedesse no se scusatemi adesso i quei nomi lo vado in tilt se mi chiedessero quanti insuccessi ha avuto sarebbero felici ne ho avuto centomila e grazie così che ha imparato avere quei successi che ha ottenuto e grazie a quei centomila insuccessi ma se facciamo quello che sappiamo fare rimaniamo convinti che quelle siano le scienze esatte le credenze esatte ci perdiamo che non significa che avere dei codici avere delle situazioni tra virgolette che noi possiamo utilizzare non sia utile anzi come diceva la dottoressa montorsi proprio l'altro giorno nel suo settore diceva io per curare un problema di depressione o 32 tipi diversi di strategie certificate comprovate valide da tutti i punti di vista e vi giuro che sono contraddittorie l'una con l'altra e completamente diverse però ne ha 32 e siccome intelligente dice secondo me parlando con lei dopo un po di provo la numero 7 se vedo che la 7 non funziona mi sposto tra la 7 la 8 la 9 e magari uso un po di 7 un po di 11 questo secondo me è il modo che almeno a me ha permesso di vedere i cavalli cambiare nel mio percorso vado avanti tu devi far finta che non ti interesso la cosa interessante che tante volte giudichiamo i cavalli no io sento parlare c'avevo un po di cavallo destro c'avevo sinistra sto verso intro verso secondo me è tutto bellissimo però alla fine bisogna essere anche capaci di dire ok io devo giudicare il cavallo nel momento presente tutti voi avete visto questa cavalla tre giorni fa sembrava che se non è saltata fuori dal tondino io ho detto una pazza sterica la vedete nei video adesso un cavallo pigro che contiene guardarmi ma dobbiamo proprio farlo ma dai ma stiamo qua che meglio non faccia niente e non è che un cavallo pigro ovviamente io che sto interagendo con lei sto dando delle priorità su un cavallo particolarmente esuberante ai limiti di avere delle discussioni preferisco avere un cavallo eccessivamente rilassato capite l'idea ma non possiamo dare anche lì giudizi schematici il cavallo è così sì io sono una persona che tendenzialmente è rascibile sto facendo un lavoro tante volte rischio essere più contenuto ieri sera perso un po la pazienza ho detto delle cose in un modo inappropriato scorretto poi mi sono scusato ho risolto la situazione fa parte della vita si impara magari tra due tre quattro cinque anni sarò sempre meno con i picchi di cui si parlava e riuscirò a essere un po più contenuto un po più calmo un po più equilibrato e una ricerca un percorso e la stessa cosa il mio cavallo magari tra cinque minuti cambierà completamente il suo modo di essere il suo modo di fare il suo modo di interagire con me vi mettete venite in tanti che voglio fare un esercizio io vi faccio i segni e prendete due barriere colorate quattro cancellini bianchi tre barriere di plastica io faccio i segni plastica legno plastica anzi cominciamo con una barriera di legno due di plastica e due cancellini bianchi come vi ho spiegato in questi giorni io coi cavalli quando faccio questo tipo di situazione faccio veramente poco non mi interessa fare tanto ok voglio soltanto controllare che nella comunicazione che c'è tra me e lei lei non mi dica luca aspetta c'ho bisogno di quest'altro se non ha bisogno di tanto io faccio poco faccio poco perché secondo me è utile per i cavalli che io non li annoi non li e non li logro il fisico e la mente facendo ripetizioni 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 io sono dell'avviso che il cavallo se faccio la cosa giusta la impara se faccio la cosa sbagliata devo ripetere a lungo perché lo condiziona e quindi tendenzialmente quando un cavallo mi dimostra di aver più o meno capito quello che gli chiedo glielo chiedo pochissimo come potete vedere i problemi che magari avevo in questi giorni si stanno trasformando perché il cavallo dice ma io per quale motivo devo far fatica discuta staglia rompermi le scatole che tanto alla fine nel momento in cui faccio quello che mi chiedi la mia vita si semplifica e diventa più facile ovvio che in questo momento caspita è il momento in cui io devo approfittare no faccio il figo faccio vedere che faccio di più ricordatevelo sempre se in questi momenti io non so apprezzare quello che il cavallo mi ha dato gli faccio perdere voglia di fare di più il giorno successivo quello che sto ottenendo oggi sono tutti i crediti che ho messo in tasca nei due giorni precedenti vedete che differenza delle altre volte oggi ho fatto una correzione mentre le altre volte lasciavo che sbagliasse tanto e nello sbagliare tanto facevo una correzione tra il bianco e il nero oggi incomincio a poter lavorare sul grigio qui di nuovo vediamo che la situazione da un punto di vista mentale funziona da un punto di vista fisico funziona il calo ha pensato di fare l'esercizio l'ha fatto fisicamente ma emozionalmente non funziona il calo dopo l'esercizio non è collegato a me non è pronta a rallentare ed è teso allora io ripeto ripeto faccio sì che lei si occupi di pensare a me e quindi non possa essere a disagio adesso nonostante l'esercizio sia stato difficile è rimasta connessa è rimasta con me e allora io non faccio altro che ripetere e premiare perché il calo mi sta dicendo non ho bisogno di fare questo esercizio al trotto un'altra volta non lo rifaccio perché sono convinto che così lei mi fa vedere che ha capito vado un esercizio diverso perché per la mia esperienza è più interessante per i cavalli il motivo per cui ho messo le barriere a terra e ho messo l'esercizio così potrebbe anche essere solamente casuale non è che io per forza ho fatto tutta la notte o ragionamento si linea di massima vedevo che lei non metterà tanto il salto nel galoppo allora ho detto magari l'aiuto con un esercizio però torno a ripetere per me lo scopo non è l'esercizio e l'opportunità che l'esercizio mi dà per arrivare aiutare il cavallo se presenta difficoltà sono le presenta peccato sono stato sfortunato e ho dovuto fare una sessione di lavoro in cui le cose sono andate bene pazienza quando non andranno bene figata opportunità ci lavoravo l'aiuto per far sì che prendo ancora crediti e le cose vanno sempre più in semplicità di solito come il picco emozionale di cui parlava franco no che all'inizio è alto e se non arrivo in cima e scendo il problema aumenta sempre di più così anche nell'addestramento le difficoltà che incontra all'inizio con un cavallo che non era tanto d'accordo come è stato addestrato sono alte se le supero e il cavallo si trova comodo un punto di vista fisico mentale emozionale e quando me lo insegnerai anche nell'anima ma aspetto che tu me lo insegni ovviamente tutto questo fa sì che il cavallo questo picco si abbassi sempre di più e quindi sembra che il cavallo non abbia difficoltà ma non è che non ha difficoltà il cavallo ne aveva un sacco non le ha adesso perché ho preso i crediti e sto facendo un qualche cosa che per lei è logico va bene mi levate l'esercizio mi mettete le staffe e come abbiamo visto anche in questi due giorni precedenti il cavallo mi dice cosa fare per cui adesso gli ho detto va bene questa è la strada metto l'energia sceglie una velocità caro partito al trotto benissimo io fondamentalmente non sono mai troppo esigente ok sono esigente sul fatto che risponda ma sul fatto che possa scegliere se rispondermi bianco verde rosso mi sta abbastanza bene ha risposto preferisce il trotto però mi ha detto qualcosa no nel senso che avete visto che c'era poca armonia no ha fatto come un rallentamento davanti a quel salto non è una cosa fluida facile è come se uno degli ingredienti fosse scemato non è scemato l'ingrediente della testa perché l'esercizio l'ha fatto non è scemato l'ingrediente dell'emozione perché il calo non era emozionato non è scemato l'ingrediente della strada perché calo strada tenuta che cosa è venuto un po mancare l'ingrediente dell'energia dell'impulso della voglia allora io non faccio altro che dire ehi ricordati anche di quell'ingrediente come come farebbe un cavallo con un altro cavallo che non si sposta abbastanza velocemente l'abbiamo visto ieri gli va dietro gli da un morsettino e il cavallo cella da un monto diretto anzi lascia la capezza un attimo faccio due cose con lo stick con lo stick corto e questo mi permette di rendere equilibrato non solo da un punto di vista mentale fisico emozionale ma anche da un punto di vista biomeccanico perché alla fine poi io comunque spero di riuscire a fare sport per i miei cavalli per cui se dico bom il cavallo lo voleva fare era tranquillo ha tenuto il compito ma l'ha fatto con poca qualità insomma visto che io devo saltare speriamo un metro io faccio anzi io dico sempre faccio le 60 sua figlia fa le 80 perché da noi si chiamano 60 le metro e 60 però se devo saltare un metro e 60 bisogna anche che il cavallo metta un filo di brio nel saltare allora invece di fermarmi vado avanti e anzi guardano facciamo così tengo quello lungo e quello corto mi levi che lo uso dopo quando mondo e questo è un ottimo momento se volete farmi delle domande che la cavalla fa una pausa che fa benissimo grazie no vado avanti ottimo allora a questo punto incominciamo come abbiamo detto negli altri giorni a inserire delle cose che non sono logiche per niente ok perché per un cavallo avere qualcosa sul naso che lo tira e lo dirige è veramente idiota cioè un cavallo in natura non ha mai visto una roba di questo tipo sta dicendo o uomo ma sei scemo che bisogna di quelle cose io funziono con un altro tipo di linguaggio e io a questo punto dico sì lo ammetto sono un po scemo però posso aiutarti a capire che questo strumento che serve a me perché non sono abbastanza evoluto a fare avatar e magari ci arriveremo per quello vi dico non credete a quello che vi dico perché tra un anno o due spero di potervi dire il contrario perché sarò andato oltre ho bisogno di dire ok in questo momento io non so ancora fare avatar ho bisogno di strumenti questi strumenti che per te sono idioti cerchiamo di renderli meno idioti per cui se ti ho insegnato che quando sono dietro di te ti spingo ti spingo anche con uno strumento ok quando vengo dietro di te ti spingo ti spingo anche con uno strumento se ti ho insegnato che quando vengo davanti te ti fermo ti fermo anche con uno strumento questo l'ha già visto quindi se lo ricorda a questo punto posso dire guarda questo strumento che ti spinge da dietro e ti ferma da davanti ti può anche guidare da di fianco perché se io questo strumento te lo faccio vedere e ti faccio vedere che questa pressione viene verso di te tu ti levi da questa pressione e allora posso incominciare a verificare se usando questo strumento riesco a ottenere che il cavallo risponda a questo strumento sia nell'andare in avanti che nel fermarsi che nell'andare di lato che nel fermarsi che nell'andare di lato che nell'andare indietro per essere sicuro che questo strumento abbia una logica per il cavallo dopodiché visto che il cavallo mi dice andiamo avanti perché sennò sei noioso perché è un'altra cosa che tanti fanno confusione no? che con i cavalli le cose vanno fatte con calma secondo me se io faccio le cose con calma e non ascoltando il mio cavallo tendo a diventare noioso se io ripetessi la stessa cosa tutta la settimana mi facessi vedere che quando vado dietro al trotto e quando vado avanti si ferma e gira tratta una settimana qui sareste tutti disattenti non ve ne importerebbe più niente perché se io non vi do stimoli nuovi e interessanti voi giustamente dite ma questo qua che cacchio ci fa vedere la stessa cosa tutti i giorni la biancia bella che capita siamo mica scemi allora io sta calma non la tratto come una scema ho fatto tutti gli step ho verificato che capisce che io sto cercando di parlare il suo linguaggio ho verificato che se anche uso una corda e una pressione ritmica da dietro e da davanti lo capisce ho verificato che con la sella sopra non è stressata perché ricordatevi la prima volta che abbiamo messo la sella ho verificato che con un cavaliere sopra non è stressata perché io ho messo sulla Nora e abbiamo visto che con sulla Nora era a suo agio a questo punto dico andiamo avanti torniamo a fare le cose illogiche ovviamente questa è una cavalla addestrata è tutto facile non è che io posso fare la stessa cosa col pulleo di Orlando e non fate confusione stiamo vedendo cavalli diversi e situazioni diverse quello che faccio come sempre fa Franco anche io non è che salgo a cavallo io guardo il cavallo guardo l'occhio mi accorgo che il cavallo è attento a questa situazione gli chiedo il permesso mi faccio aiutare perché c'è una certa età nel momento in cui salgo metto sempre il piede nella staffa una volta messo il piede nella staffa siccome il cavallo è bravo mi giro e a questo punto mi passi il carotto quello piccolino e a questo punto so di essere salito in sicurezza perché nell'ipotesi in cui il cavallo si fosse agitato o preoccupato io fino a quando non era tranquillo non avrei mai girato il piede e non solo non avrei mai girato il piede ma avrei potuto scendere tenere la bocca e far girare il cavallo intorno a me e anche queste cose sono importanti perché fanno vedere al cavallo che tu lo rispetti perché gli stai chiedendo il permesso stanno evitando evitando degli incidenti che sono tra i più comuni se mi chiedessero quali sono gli incidenti più comuni che tu hai riscontrato nella tua esperienza con i cavalli vi dico il momento in cui si sale e forse gli incidenti maggiori che si verificano sono in quel momento lì che si dà tante cose per scontato si sale si sale malo rumore qualcosa e cavallo scappa siete fuori equilibrio bam per terra io avevo un allievo che si è spaccato due vertebre è veramente una cosa stupida come tutte le cose che faccio io ma che nel complesso ha senso dopodiché da sopra verifico che cosa ne pensa di questo ritmo di questo bastoncino perché uso un bastoncino? il punto prima lo faccio di proposito perché questo è un momento in cui tutti stanno criticando il frustino e io certo che lo critico per me un cavallo non va mai punito non esiste se ho bisogno di punire un cavallo è perché non sono capace di addestrare però devo avere degli strumenti io sono alto e lungo come faccio a fargli vedere una cosa logica? ho bisogno di avere il collo e la testa che diventano il mio braccio che vanno davanti al cavallo gli dicono cavallo ti ricordi quello che ti ho insegnato da terra? sì era questo che tu questo braccio questa testa li devi ascoltare con che tipo di intensità? con quella che farebbe un altro cavallo non mi occupo neanche lontanamente del fatto che tu dica sì o che dica no ti amo allo stesso identico modo ma sono coerente con la richiesta per cui finché non ho ottenuto il risultato la richiesta continua e quindi continuo a verificare se queste cose sono logiche per il mio cavallo dico ti ricordi il collo della mamma il bastoncino e tutto adesso aspetta un attimo mi sa che sta facendo no mi sono sbagliato allora ti ricordi il collo della testa della mamma eccetera sì continua a mettere questo ritmo e voi direte ah lo picchia no non lo picchio semplicemente io metto ritmo per andare oltre il cavallo e il cavallo si scontra col ritmo mica io mi scontro col cavallo torno a ripeterlo perché è veramente importante capire la differenza se questa pianta cade e voi non vi spostate vi schiaccia un piede non potete arrabbiarvi con la pianta la pianta ha fatto la cosa che la natura gli insegna quando un altro cavallo dice io voglio andare là per cui o tu ti sposti o io ci vado la natura è così ma io da un punto di chi è che faceva prime domande emotive da un punto di vista emotivo da un punto di vista di mia centratura io qualunque cosa succeda sono felice uguale se non giri è un'opportunità per far sì che questa richiesta venga ascoltata se giri e vabbè pazienza hai girato ti dirò che sei brava ok e quindi faccio queste verifiche per verificare che questa cosa incomincia ad avere un significato per il cavallo perché per me questa cosa è logica tutto quello che faccio con le mani e con le gambe è assolutamente illogico siccome il cavallo mi dice che è abbastanza logico per lui incomincio a dirgli va bene allora adesso faccio una cosa un po' stupida voglio che vai in avanti te l'ho insegnato un po' da terra metto dell'energia metto un po' la voce e poi uso questo strumento qua per aiutarmi da dietro a spingerti dopodiché dico l'hai fatto benissimo bravissimo però mi hai dato un'emozione allora non ti lascio da solo a lungo interrompo questa situazione ti faccio pensare e la ripropongo e la ripropongo e nel momento in cui la ripropongo il cavallo non mi ha dato l'emozione anzi addirittura mi ha detto sì ho capito ma cosa vuoi devo fermarmi e andare e io non gli chiedo di trottare voi direte ma come non so neanche partire al trotto certo non so neanche partire al trotto perché non so girare non so fare niente sto cercando di impararlo ma so leggere il fatto che il cavallo ha pensato a qualche cosa e mi ha offerto qualche cosa e per me questa cosa è quella che mi permetterà nel barrage magari a Barcellona spero a breve o piuttosto ancora meglio a Parigi di avere un cavallo che dice ah cacchio io mi ricordo quel giorno in tondino che tu hai letto che io stavo cercando di fare una cosa per te tu mi rispetti tu mi dai importanza tu sei empatico tu mi fai sentire protagonista io e te stiamo dialogando allora faccio io qualcosa per te adesso e questo secondo me è quello che mi permette di andare a letto con difficoltà la sera perché ho voglia la mattina di svegliarmi e di andare a cavallo se no a me l'idea di essere seduto su un cavallo e di fare sport credetemi che tante volte mi fa anche un po' schifo devo fare veramente fatica a pensare che che cacchio sto facendo ma questo aspetto è quello che mi fa andare a letto col dispiacere che devo aspettare la mattina per poter montare i miei cavalli perché è una cosa pazzesca l'amore che ci danno che ci trasmettono il tipo di relazione che si può avere con loro è qualcosa che io non sono ricco io sono bilionario potreste regalarmi Ferrari per l'amore del cielo che due palle dovrebbero problemi che me le rubano l'assicurazione ma io ho la ricchezza più grande del mondo faccio quello che amo e ho degli animali che stanno bene con me anzi dopo un po' diventano esuberanti hanno voglia hanno il piacere di condividere le cose e questo secondo me deve essere la base di tutto quello che facciamo e la nostra responsabilità da professionisti è proprio quella di dire ok come facciamo a ottenere questa relazione rendiamo tutto logico per loro ascoltiamoli e poi mettiamo i tasselli successivi senza mai abusare tanto ormai mi odiano tutti mi chiedono cosa ne penso di sparare le imboccature io sto sempre un po' zitto perché dico sta attento a parlare perché sai si dice no perché il cavallo con quella imboccatura con lo sperone puoi fare meno puoi essere più preciso secondo me se siamo veramente obiettivi su 100 persone che usano una lama in bocca con una catena e le leve e degli speroni con una rotella quanti sono veramente consapevoli quanti lo fanno veramente bene col tempismo giusto per aiutare il cavallo per far sentire bene il cavallo per risolvere il problema del cavallo su 1 a 100 vogliamo essere ottimisti? 3 5 7 volete dire numeri più alti? qualcuno pensa che ce ne siano di più? no 0 no 7 diciamo 7 ma sti 7 ma non sono abbastanza fighi per farne a meno io penso di sì e sti 7 non sentono la responsabilità di non dare un esempio sbagliato agli altri 93 che non sono consapevoli che non sono in grado e chi ne fa le spese? chi è? lei e noi ricordatevelo tutti siamo saliti a cavallo perché amavamo i cavalli poi abbiamo cominciato a diventare uomini a fare lo sport il successo i soldi le minchiate che non rendono felici nessuno perché credetemi che quando Martin Fuchs dall'1 al mondo arriva al 3 del mondo è incazzato come ha incazzato il ragazzino che nella 30 ha fatto 4 penalità cioè lo sport non è mica vuol dire che arrivo là e sono felice ma quando mai? arrivo là e comunque ho le frustrazioni le infelicità gli insuccessi perdo nel 99% delle volte sì quella volta che vinco sono contento ma che cacchio è talmente effime quella volta lì mentre invece questo secondo me è una vittoria del momento del quotidiano di tutto riuscire a essere in due che è quello che secondo me tantissimi cavalieri cercano e vogliono ottenere e vogliono fare però secondo me ci vuole un passo ancora in più nei confronti del cavallo quindi a questo punto visto che questo cavallo mi sta dimostrando che le cose vanno abbastanza bene visto che a me piace fare saltostacoli io incomincio a dire ok facciamo anche un po' di più no? e faccio le mie verifiche per vedere il cavallo è pronto a rispondere alle cose che gli chiedo? sì o no? se non è pronto vuol dire che probabilmente è emozionato è agitato allora che cosa faccio? al contrario di quello che pensiate voi gliele chiedo più spesso chiedendogliele più spesso ottengo quello che ho ottenuto all'inizio perché? perché il cavallo non può non pensare e dovendo pensare si mette nella posizione in cui dovendo pensare si mette nella posizione in cui tolgo la testiera perché gli danno fastidio alla redini si mette nella posizione in cui è obbligato a rilassarsi un cavallo che quando montate senza testiera mettetela sempre in un posto alto così se ne esigenze potete prenderla quando un cavallo è agitato ho bisogno di prendere la sua attenzione vi faccio un esempio anche un po' forte per certi aspetti quando io ero bambino dovevamo diventare uomini diventare uomini significava che se un bambino per esempio piange quando lo metto a dormire deve imparare e quindi lo lasci piangere che gli vengono gli occhi belli e funzionava siamo cresciuti così quando un bambino ha paura del buio ed è disperato se non la smetti di piangere ti chiudo il gabuzzino finché non la smetti e io ho smesso di piangere funzionava ma quando io ero nello sgabuzzino da solo col terrore e con le lacrime come ci stavo lì dentro quando questo cavallo scappa mi ricorda a me in quello sgabuzzino lui non sta scappando perché è pazzo non sta scappando perché vuole farmi male non sta scappando perché è arrabbiato con me non sta scappando perché è frustrato perché la moglie ha risposto male sta scappando perché è agitato è come quel bambino che ha paura del buio e allora io che cosa faccio gli dico aspetta aspetta facciamo così hai paura del buio non accendo una luce perché accendere la luce è altrettanto sbagliato e ignorare la sua paura e non farlo crescere e non aiutarlo ad andare oltre e non fare la curva di cui ci parla Franco io che cosa faccio gli dico vengo nella sgrabuzione con te e ogni tanto accendiamo il cellulare e poi ci mettiamo a contare da 1 a 10 da 10 a 1 adesso facciamo i numeri dispari poi facciamo i numeri pari e adesso facciamo questo gioco tu mi batti la mano destra io la si lo faccio pensare lo faccio sentire occupato lo faccio sentire ascoltato lo faccio sentire importante del buio non ne frega più niente e a quel punto il buio non è più un problema è un'opportunità per creare una relazione e questo è quello che io voglio con i cavalli per cui io questa cavalla fino a quando non le do delle informazioni che sono logiche per lei e non gli faccio capire che sono logiche per lei non posso montarla con un'imboccatura è una cosa orribile brutale è una tortura quello che lei ha subito dalle mani dell'uomo fino ad oggi è una roba terrificante ma non per colpa dell'uomo perché lei poverina comunicava come? scappando e tirando e l'uomo poverino doveva sopravvivere cosa faceva? faceva scappare il cavallo 200 all'ora semplicemente mancava un passaggio come mia sorella aveva fatto il passo lungo sapete quanta gente è morta in montagna lei no non c'entrava è caduta una slavina è morta ma quanta gente muove in montagna perché non fa i passi giusti è la stessa cosa con i cavalli io non posso permettermi di mettere un'imboccatura quando un cavallo ha ancora delle reazioni e delle situazioni emotive che mi obbligherebbero a fare una cosa illogica per lui che per giunto gli dà del dolore capezza il filetto quello che volete senza arrivare alle pippe ma non perché tiro io perché tira lui se sto cavallo scappa io tiro anche una redine sola e lui va contro si fa male alla lingua alla bocca allora io dico uso uno strumento che ti ho spiegato che la terra ha una logica lo uso anche da sopra fino a quando questo strumento che da terra aveva una logica non ha una logica anche da sopra scappi perché pensi che l'uomo da sopra non sia una persona corretta e io continuo a ripetere questo esercizio fin quando tu come ti ho insegnato da terra non capisci anche da sopra che l'uomo invece può essere una persona corretta e che cosa faccio? Ascolto giro il cavallo nel girare mi dimostra a questa mano una certa sensazione e quindi dico sei pronta a questa mano mi dimostra un'altra sensazione e quindi dico non sei pronta non a caso ho tolto la testiera dopo che mi stava scappando ma perché? Primo perché mi piace essere un po' quasi provocatorio no? perché penso che nella provocazione vediamo le cose un po' più a fondo e poi soprattutto mi piace far vedere che la soluzione del problema non è nella reddine la soluzione del problema è questa se io in questo momento ascolto cosa pensa il cavallo di questa mano ho risolto il problema per tre volte la cavalla è venuta contro e io ho detto questa mano devi ascoltarla perché è come la mamma che ti sposta per due volte la cavalla si è emozionata ha sentito la mano ma si spostava agitandosi in questo momento ha sentito la mano ha detto ah ho capito sei come quella rompi i coglioni della mamma vuoi solo che faccio così va bene lo faccio mi rilasso sbatto la testa mastico ti do tutti questi segnali che sono a mio agio perché questa cosa adesso mi è chiara io non è che salgo a cavallo senza testiera e mi faccio male e non consiglio a nessuno di fare la cosa che faccio io se non sono stra sicuro di quello che fanno e non l'hanno provato riprovato e stra riprovato con la testiera e con tutto quanto però cercate di capire la logica di tutto questo e di andare un po' oltre a volte poi è utile mettere il gog queste cose qui perché quando il cavallo non capisce da solo che deve allontanare l'incollatura e abbassare la testa lo strumento può essere utile però secondo me è più logica una mano che un gog allora il cavallo parte il galoponi dice allora prima scappavo ma mi sono sentito a disagio perché ricordatevi che il cavallo vuole far bene non esiste un cavallo che vuole far male se il cavallo volesse farvi male manco vi avvicinate vi mangia in un box ma è difficile fare bene c'è la prestazione l'ansia ce l'hanno anche loro allora lei prima ha detto scappo poi ha detto no 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 quella cosa lì non mi è piaciuta ho capito che non eri contento adesso dice non vado che è un altro tipo di emozione perché come ha mai dato l'emozione dello scappare ma ha dato un'emozione al dire non va lì in avanti e quando l'ha fatta letto sono insicuro in questa emozione io gli ho detto no no non essere insicuro guarda ti faccio provare una situazione biomeccanica piacevole come creando una estensione dell'incolatura e una discesa di mano è la stessa cosa che faceva Silvano in una fase più elementare io non sono ancora abbastanza bravo per insegnarglielo direttamente come glielo insegna Silvano parto da una fase antecedente che è questa che gli insegno più o meno la stessa cosa ma in un modo un po' più logico per il cavallo perché gli ricorda di più quelle che sono le sue esperienze da come si chiama da poledrino no da sì insomma da cavallo che era un cavallo a questo punto visto che stiamo facendo uno stage che sono più o meno meno un quarto allora visto che stiamo facendo un compartiamo mi fermo e andiamo avanti poi domani con la fase successiva o volete che faccio vedere velocemente un attimo l'idea delle redini cosa preferite la cavalla dice le redini mi dai il filetto un'ora per piacere la cavalla è contentissima di imparare questa cavalla stava felice diceva madonna le cose possono essere meno stupide di quello che pensassi nonostante tu abbia due gambe sei meno idiota di quello di cui ero convinto di tutto l'essere umano dal primo all'ultimo ha cambiato un po' gli addestratori no lei ma non è colpa degli addestratori ragazzi qui il problema non ci sono colpe è semplicemente che ci manca troppe volte la curiosità e la voglia di andare un po' oltre e di smetterla di fare le cose che ci hanno insegnato che hanno fatto gli altri stare un po' più attenti alle esigenze e cercare un po' più di logica ma non nella storia nei libri nella scienza nell'esperienza degli altri nella testa del cavallo perché deve essere logico per lei non deve essere logico per me per me non c'è nulla di logico in quello che sto facendo per un cavallo allora devo insegnarglielo con delle cose logiche ieri Giovanni Masi mi ha fatto due complimenti uno più bello dell'altro senza saperlo cioè mi ha detto la prossima volta no vai sempre via da dietro cioè mi ha detto due complimenti bellissimi lui ha montato questo cavallo Buenos che è un cavallo che io ringrazierò tutta la vita perché mi ha messo veramente in discussione un giorno avevo deciso di smettere di montare a cavallo perché ho avuto un contrasto con una istruttrice che mi sta insegnando che mi ha detto questo cavallo o metti un'imboccatura forte o sei un idiota non andrei da nessuna parte gli ho detto io smetto di montare mi interessa non vado in barcarella mi piace la barcarella vado in barcarella ma che problemi c'ho piuttosto che mettere un'imboccatura forte sarebbe il fallimento di tutte le mie credenze e grazie a lui ho dovuto dire ma che cosa posso fare per farmi capire e ieri Giovanni mi ha fatto due complimenti uno più bello dell'altro il primo mi ha detto questo cavallo tutto quello che gli chiedo lo vuole fare io l'ho comprato che aveva delle opinioni un po' diverse facevamo scinautico il secondo complimento che mi ha detto è un po' da spingere quasi pigro vuol sempre rallentare e fermarsi io facevo scinautico col cavallo in fuga per cui ho detto cavoli forse sono riuscito in due intenti poi sicuramente lui mi ha fatto delle robe bellissime geniali io ho un sacco di stimoli adesso per imparare a girare perché mi sono accorto che facevo un sacco di cose sbagliate adesso incomincio a inserire il discorso delle redini allora dico la redine per me è una cosa stupida però ne ho bisogno allora ti spiego che cosa voglio con la redine quando c'hai una redine che ti dà un fastidio ricordati che la sensazione dell'incollatura dell'altro cavallo ti dice di spostarti e non faccio altro che associare questa cosa stupida per il cavallo a una cosa logica per il cavallo e pian pianino faccio sì che questa cosa logica per il cavallo non diventi logica anche senza usare lo strumento perché dice vabbè la prima volta non capivo bene mi hai spiegato la seconda ero un po' lenta nel capire poi ho capito perché mi hai spiegato la terza oh sono mica scema ho capito lo faccio cioè alla fine il cavallo non vuole fare l'errore vuole fare la cosa giusta per cui nel momento in cui attraverso una cosa logica gli insegno una cosa giusta il cavallo automaticamente diventa intelligente dice spiegamolo appena appena che ho già capito non devi mica ripetere 82 volte e quindi mano a mano questo strumento logico per il cavallo lo userò sempre meno però non a caso io ho cominciato a montare un cavallo con una frusta che stiamo vietando per legge perché per me se io posso usare una frusta con un cavallo senza testiera vuol dire che la frusta è uno strumento utile se la uso con una testiera perché ho bisogno della frusta per far fare il cavallo determinate cose si chiama coercizione e non va proibita va sensibilizzata la gente a capire che i cavalli sono talmente che gli chiedete quindi andando avanti gli insegno che la stessa cosa che gli ho insegnato con quella mano la posso insegnare anche con questa redine che si appoggia al collo perché comunque questa redine che si appoggia al collo se non la segui c'è un aiuto logico ok quindi la redine la segui e io non tiro un po' le scatole le due redini le segui se non le segui io ti aiuto con qualcosa di logico se non le segui ti aiuto con qualcosa di logico a questo punto metto il cavallo che capisce un pochino meglio che cosa voglio con la mano destra cosa voglio con la mano sinistra cosa voglio quando appoggio una redine sul collo a questo punto devo incominciare a dire ok ma è verissimo che il cavallo non bisogna tirare mai verissimo però a me capita allora gli devo anche dire quando tiro le redini non forzare sulle mani e non mi piace dirglielo con le mani perché nella mia idea se lo strumento illogico è sempre piacevole e lo strumento logico è educativo faccio sì che lo strumento illogico diventi quasi un rifugio una cosa piacevole quello che diceva ieri Dido che era bellissimo non era che bisogna mettere il cavallo scomodo chi ha letto quella cosa non ha capito la sostanza di quello che lui ha detto bisogna rendergli comodo girare e io devo rendergli comodo l'imboccatura devo rendergliela piacevole il cavallo mastica ed è contratto sì ho usato le mani per farlo no ho usato una minima indicazione della mano supportata da una cosa logica a questo punto se il cavallo è pronto posso incominciare a dire vediamo la stessa cosa che abbiamo visto prima anche in una situazione diversa per cui se io lo faccio da una velocità diversa fammi vedere se capisci e voi dite mamma mia la presa bastonata è sotto la testa sì l'altro cavallo voleva passare lì sotto ha detto oh se non ti sposti ti alzo la testa la cavalla adesso è serena è felice è tranquilla sì quindi questa cosa è logica per lei sì se avessi fatto la stessa cosa dando gli due colpi con le mani secondo voi sarebbe serena tranquilla felice serena per la mia esperienza no perché l'ho fatto per un sacco di anni cercando le chiavi e quindi trovo questa cosa più logica poi se volete provare con un altro cavallo a farlo io con lei non lo faccio perché è una cosa che trovo stupida io faccio tutte le esperienze che mi risultano abbastanza logiche e insegno a questo cavallo e gli dico guarda che quando senti le mani devi tenere su la crappa perché se tu abbassi la testa per te è scomodo per me è scomodo e non serve a niente e non pensare che sia un modo per toglierti un fastidio per dare retta le mani e dopo un po' c'è un cavallo che nel momento in cui io spingo sulle staffe rileva l'inconatura tira sulle spalle e viene e si ingaggia perché? perché ho usato questo strumento assolutamente stupido assolutamente idiota assolutamente illogico per lei con uno strumento che può essere logico a questo punto io penso che la cavalla abbia detto che per lei basta e se volete non scendete così da cavallo mi sono distratto non va fatto scusatemi se volete fare delle domande io sono a vostra disposizione non sei tu? no si viene sopra grazie allora la mia non è propriamente una domanda ma è dire quello che ho visto dalla mia cavalla ed è la prima volta che io vedo la mia cavalla felice quindi grazie felice anche di comunicare con me siamo felici in tre grazie grazie cosa facciamo Luca? facciamo venire anche gli altri professionisti lì? se non ci sono domande sì l'ideale oppure non so dici tu Cristian dove ci vuoi è identico ok se avete altre domande per Luca esclusivamente se no oppure li faccio solo avvicinare qua così abbiamo più tempo per compartire vengo su anch'io? dai ok tanto comunque chiudiamo lo streaming